per tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono volto in compagnia di e di quell'altro è invece il lottolo signor ma che è successo e allora ragazzi noi siamo le tre recrute perché siccome ragazzi è finita la stagione si fa il rush di fine stagione sì che ragazzi spero il video vi piaccia e buona visione ahimese scusate di andare a fare la bolla e ne ammazzo uno subito così dai pasco ce la puoi fare tocco bello e pasco quello che rimane l'ultimo e poi c'è ramen 2103 che è signor mage e io sono valpro ok l'hai visto vai vai pasco e tutti siamo con te sì lo sento lo sento no io sto invece no il mondo da aperta è sicuramente nooo ramex ecco 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 m di fatto cerca di un po' più semplice perché voi non avete un calcio di plasmi vabbè intanto 5 settembre le comedi cominciano gradi capito ma c'è su un'ora 1 mi calderebbe chiudere la stagione oh vabbè un po' più di plasmi quindi c'è un po' più di plasmi ho capito che c'è un po' più eh infatti anch'io c'è un po' più di plasmi il 5 settembre c'è un po' più di plasmi bisogna essere corretti nella vita SIGUORA! 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 130 Martin Garbage Animal Lich Svolacce andiamo busciamo dentro l'obiettivo ma rega passavoli qua ah! ma che sta sparando i colpi a caso ah mi immagino una data mi fa forza forse ecco la scena 0 di ricariche ma comunque vedi quella un po' su questo modo vai aspetti guardo vai vado 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 questi i i i i destra lo stavo guardando perché guarda no 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 perché no perché capiamoci bene io sono morto perché Daniel mi stava davanti io sono con la pompa di smoke e con la mitaglietta di smoke e con la nitrocella anzi no si invece si di gusto barricate la stanza io faccio sponchile ragazzi anche io e carico lascio qui delle mie bellezzine lascio qui un bel forzino all'attacco io sponchile dal garage 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 io ho fatto un pochino per riuscire fuori io sponchile dal garage io da mora il nemico ha individuato il contenuto no Samir sotto le palle Samir 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 zotti Samir è un gatto nuovo caricatore nuovo caricatore AIA AIA non è che si sponchile con la morte io poi sponchile dal garage ma solamente che mi manca la mira Pasqui è la mira oddio Daniel fa fuori i banner ma era switch ah è vero era switch aspettati quando vai Pasqui ci vado ti fanno i giornali mi fanno Alla C'è n'è alcuna sopra? c'è c'è ah mi sono visti a parli davanti mi sono messo ora quella si chiama testolina scimmia pazza grande cemia patadagna con la doppia destra sinistra rovescia gol e di vai tani vai tutti con te siamo tutti con te si ma quando vuoi sparare chiamai perchè no ma l'ho farito dimmi casa ma cosa da lì fai scimmia no scimmia di buono però mi fai cavo così guarda quello che muore il 100 spunti ma perchè non usa le smoke stanno tira le smoke stanno eh sì bella casa grande bestia grande bestia grande bestia ma non lo capisce lo capisce l'italiano bella casa noi siamo le regole noi siamo le regole ma è tutto soffica perchè a parte che c'era le insoli che allora aspettate un secondo secondo voi io prenderò il pompa del gsg9 o lo scudo balistico non mi caga nessuno scudo balistico io e scimmia siamo gli scudi balistici allora siamo tutti e poi due più due quanto fa manco qui non ci sono a pasco 7 se tipo se tipo se tipo se ti posso amicidire dal cimitero io non voglio morire delfine mi piace morirà un po' ma è facile ma il figlio scimmia coprimi scimmia coprimi scimmia coprimi aiuto aiuto ma la cina la cina la cina tutti con te siamo noi altri non è che io non ti voglio sparare su quando ero io che ti ho sparato e a vai pasqui bella mira bella mira bella la mira è un po' da migliorare però la sensibilità di gioco va bene oh di scrittura e di giustizia e di giustizia e di giustizia www e lui muore ora guardate la morte di dj skritschler in diretta dove nella doccia scala da bagno dolce doccia doccia e ragazze si va a vediare la partita forza repubblica tutto il pop a di dj sk9 andiamo andiamo anzi raga anzi webb45 ok che di che di che spazzo dell'fbi swat ah scu... eh ah io penso che il bandit giù con l'arena e vai si mi abbandona ah 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 difendete la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di più rischio aiuto via ah ma cosa fa qui aiuto aiuto darci oh oh ti ah aiuto 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 non mi dico no basta 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 non mi dita da dai mi spalate d'ammazzo TIRAMO! Pasqua arrivo, aspetta! DO! BENE! CICOTO! PERCIO RIVERTA! E... 3 ore! 3 ore! 2 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 ore! Vaffanculo vai! Vole un animale! Mi spalati in testa! Ragazzi per questo video è tutto lasciate like, commentate il video con i posti! Amici condividete il video! Iscrivete al loro canale! Non stanzo! Non stanzo! Non stanzo! Vi saluto! core! Non stanzo! Grazie a tutti